Sabato pomeriggio il 24 a San Salvo la 13esima edizione del trofeo Dino Potadino, una gara apodistica oramai entrata nel panorama apodistico-pruzzese e saremo tutti quanti qua a San Salvo. La 13esima edizione oramai è una gara che ha preso piede sia a livello regionale che interregionale, infatti nel Palmares dei vincitori, nell'Algoturo abbiamo parecchi corridori extra-regionali, così ci attendiamo anche quest'anno. La gara verrà fatta, sarà iniziale di useremo verso le 5.30, con la gara per i ragazzi e poi proseguire con la Corri Insieme. Corri Insieme è una gara molto particolare, molto sentita qua a San Salvo perché la settima edizione la faremo, organizzata dall'Alda e dei protagonisti sono i ragazzi di Sabato, i ragazzi siamo tutti quanti insieme, proprio insieme a noi, quindi non li facciamo sentiti solo ma è un motivo anche di intenzione. E poi ai 19 abbiamo iniziato la gara competitiva e non competitiva di circa 10 km, la competitiva e 4 km non competitiva, però in questo qua c'è il Presidente della Polistica San Salvo, che ci dà i dettagli di quest'anno. Assolutamente, ci dirà anche se ci sono magari degli ospiti d'onore. Buonasera a tutti, presentiamo questa tredicesima edizione, quest'anno credo che sarà una edizione particolare perché ci saranno tanti atleti come gli scorsiani, però quest'anno non li voglio citare, la sorpresa è proprio questa, devono venire sabato pomeriggio per vederli di persona questi atleti. Poi vi invitiamo numerosi perché anche quest'anno la location non è uguale all'anno scorso, ci troviamo nella villa comunale dove abbiamo nelle nostre spalle l'anfiteatro dove verranno fatte le premiazioni, anche quest'anno ci sarà un favoloso pasta party gratuito per tutti. Passiamo alla manifestazione, partirà la competitiva alle ore 19 insieme alla non competitiva, quindi ci sarà una gara non competitiva di 4 km e una competitiva di 10 km. Partirà alle 19, ci sarà un giro corto, due giri lunghi di 3 km, all'incirca sì, vi invitiamo numerosi tutti quanti, sabato pomeriggio, sabato 24. Il main sponsor della manifestazione è come da 11 anni a questa parte, sempre Metamer, energia elettrica e gas, patrocinata dal comune di San Salvo che noi ringraziamo e vi aspettiamo numerosissimi a San Salvo il sabato 24 giugno. Quindi sabato 24 giugno alle 17.30 a quale la vita comunale di San Salvo. Grazie.